Come superare la paura della morte? Sono Filippo Ongaro, se vuoi imparare a vivere con più coraggio, con più entusiasmo la tua vita, beh sei sul canale giusto, iscriviti ora e clicca sulla famosa campanellina così sarai sempre aggiornato. Come superare la paura della morte? Sembra immediatamente un discorso tetro, triste, una cosa da evitare, ma in realtà la paura della morte è la nostra grande paura. Dietro alla paura della morte sono nascoste molte altre paure minori, magari più raccontabili, più facili, la paura dell'abbandono, la paura della perdita, la paura del fallimento, ma in qualche modo c'è una traccia che unisce tutte queste paure con questa grande paura che l'uomo ha sempre avuto che è la paura della fine. È chiaro che confrontarsi con la fine propria, la fine delle persone che stanno nel nostro cuore, non è una cosa semplice, non è una cosa facile. La morte rappresenta uno dei grandi misteri della vita umana, così come la nascita per certi aspetti, ma dal mio punto di vista mai come oggi è diventato per l'uomo difficile gestire questa paura. Paradossalmente l'uomo ha sempre avuto paura della morte, ma ne era più consapevole, conviveva con la morte per tutta la sua vita in realtà, la vedeva, la toccava con mano attorno a sé. Invece la società moderna ha voluto mettere la morte tra parentesi, allontanarla dalla vita quotidiana e questo ha fatto sì, come sempre quando si tratta di una paura, ha fatto sì che allontanandola questa in realtà ci inseguisse con ancora più violenza. Perché questo? Perché le paure funzionano in questo modo, l'unica possibilità di smontare una paura è veramente passarci attraverso ed affrontarla. Tutte le volte che provi a negarla, a far finta che non ci sia, la paura in realtà aumenta e spesso diventa qualcosa che facciamo fatica a controllare. Memento mori, dicevano i latini e avevano ragione, ricordati che devi morire, ricordati della tua mortalità, non c'è niente di strano, certo possiamo fare le corna e dire spero che accada il più tardi possibile, questo è tutto lecito, ma il tema di ricordarti della tua mortalità e di quella degli altri è in realtà un modo fenomenale per vivere più intensamente il tempo che hai a disposizione. perché allontanare la morte vuol dire fondamentalmente ridurre al minimo il valore della vita, vuol dire ridurre il valore del tempo, vuol dire far scomparire il valore delle esperienze, cioè tutto quello che accade nella nostra vita acquisisce un valore molto più profondo e molto più ampio se lo inseriamo nel contesto di un inizio e di una fine, ma quando alla fine non pensiamo mai entriamo nella modalità di vita tipica della società moderna che è appunto una modalità di mordi e fuggi, di prendi tutto, di desiderare ogni cosa e di non godersi quasi nulla, proprio perché non do un peso sufficiente alle cose che mi accadano perché tanto penso ah ne accadano altre domani e domani e domani ancora e domani ancora. Quindi io credo che gli antichi ci abbiano insegnato una lezione molto importante che non significa ovviamente pensare alla morte dalla mattina alla sera, per carità non sto dicendo questo, ma significa familiarizzarsi con l'idea che c'è una fine e che è logico che ci sia, che è un fatto biologico naturale che dà valore alla nascita, alla vita, alla longevità, ma proprio perché c'è una fine possiamo dare valore alle cose che abbiamo. Dobbiamo tenerlo presente sul piano emotivo perché razionalmente so benissimo che lo sai, ma è sul piano emotivo che dobbiamo tenere a galla questa cosa, magari riflettendoci quando scriviamo nel diario, avendo presente che tutto ciò che ci accade è nel contesto di di un inizio e di una fine, perché più sei a contatto con il concetto della fine e meglio vivrai il tuo presente. E questo è un grande effetto liberatorio di questa familiarità con la fine e devo dire che mi piace moltissimo chiudere questo discorso con una frase di Mark Twain che disse la paura della morte deriva dalla paura della vita. Un uomo che vive pienamente è pronto a morire in qualsiasi momento e se ci pensi è proprio vero, cioè questa difficoltà di accettare la fine irrigidisce anche il nostro rapporto con la vita e la rende meno bella, meno profonda, meno calda ed emotivamente meno appagante. Se vuoi che ti aiuti a capire meglio come affrontare questi temi e tante altre paure anche più semplici che incidono sulla qualità della nostra vita quotidiana, beh, leggi qui sotto perché magari posso darti una mano.